Sanità marzicana e politici, contese senza esclusione di colpi per alcuni servizi. Oggi 10 casi di contagio da coronavirus, mai così alti negli ultimi tempi. Stato di emergenza per la A24 è stato chiesto per i disagi causati dalla chiusura di un viadotto. Condanna per l'uccisione dell'orso e il responsabile dovrà risarcire il parco e le associazioni che si sono costituite. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. Iniziamo con la politica. Sanità marzicana al centro dell'attenzione dei vari politici che guardano con particolare attenzione o, se preferite, interessi alle prossime elezioni amministrative. Fino a qualche giorno fa la contesa si era concentrata sul parto indolore, servizio ora ristabilito dall'AS Avezzano-Sulmona-L'Aquila. Mentre oggi la tensione è stata spostata sulla mancata di attivazione del desargeri. A riguardo, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giorgio Fedele, in un comunicato fa presente che il desargeri dell'ospedale di Avezzano rimarrà ancora chiuso. Uno dei fiori all'occhiello dell'intero presidio finisce ancora una volta nel dimenticatoio dei vertici aziendali con il benestare della politica regionale di centro-destra ed in particolar modo della Lega che continua a tenere il freno ad un servizio essenziale sia in termini di funzionalità per i pazienti che di risparmio per le casse regionali. Un duro colpo a tutto il territorio che certifica ancora una volta la miopia nella gestione della struttura. In questi ultimi mesi, prosegue, abbiamo assistito ad una riduzione di posti letto nell'ospedale e dallo spostamento di vari reparti. Dove era prima ubicata la chirurgia vascolare è ancora adesso attiva la zona grigia, un'area in cui rimangono i pazienti in attesa di conoscere se siano o meno positivi al Covid. Per questo la chirurgia vascolare è stata spostata vicino alla chirurgia generale andando a sostituire proprio il reparto dei sargeri che adesso non può più svolgere le proprie funzioni. Parliamo di un reparto che registrava circa 2.600 interventi annui e se si tiene presente che il costo medio per ogni giorno di degenza si aggira tra i 700 e gli 800 euro e che in sua assenza sono necessarie almeno due notti di ricovero per ogni paziente da trattare, il costo in più che la nostra sanità sarebbe chiamata a sostenere è facile da calcolare. Per questo parliamo delle gravi ripercussioni sui conti della regione che potrebbero essere aggirati in maniera molto più semplice. Un balzo improvviso ed imprevisto dei contagi dopo l'ottimo andamento degli ultimi tempi. Da zero casi di ieri oggi si registrano ben nuovi 10 casi. Questo dato conferma che anche nella nostra regione non bisogna assolutamente abbassare la guardia e devono essere adottate le necessarie misure di prevenzione. In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3.352 casi positivi al Covid-19 diagnosticati da test eseguiti nei laboratori di riferimento regionali. 8 pazienti, invariati rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 2 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 105 più 5 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLA. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 470 pazienti deceduti, invariato rispetto a ieri, 2.767 sono dimessi o igualiti, più 4 rispetto a ieri, di cui 13 che da sintomatici, con manifestazioni cliniche associate al Covid-19, sono diventati asintomatici e 2.754 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 115 con un aumento di 6 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 122.303 test. Del totale di casi positivi 249 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 2 rispetto a ieri, 834 in provincia di Chieti, più 3 rispetto a ieri, 1.605 in provincia di Pescara, più 4 rispetto a ieri, 635 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per 3 casi, più 1 rispetto a ieri, non è indicata la provenienza. Domani, venerdì 24 alle ore 11, presso la sede del Parco Nazionale Monti della Laga, ex convento San Francesco ad Assergi, è in programma conferenza stampa per la presentazione del progetto Nexum Ecum Ippovia del Gran Sasso, nato da Unidea del Centro Ricerca e Sviluppo di Miogene, in collaborazione con l'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con il FAI, Fondo Ambiente Italiano, con il FISE, cioè la Federazione Italiana Sport Equestri e con FAI-TREC, ente della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trek. Il progetto prevede il recupero ed il ripristino del tracciato Ippovia del Gran Sasso, UMA, sistema di offerta indirizzata al turismo equestre di montagna e di campagna. Interverranno alla conferenza stampa Tommaso Navarra, presidente del Parco Gran Sasso Monti della Laga, Giovanni Battista Galeota, responsabile Centro di Ricerca di Miogene, Alessandro Silvestri, presidente nazionale FITE-TREC-ANTE, Massimo Luca Dazio, presidente FAI-Abruzzo e Molise e Rocco Di Nola, presidente FISE-Abruzzo. La Lega Abruzzo ha convocato per domani all'ora 15.30 ad Avezzano, nella sede elettorale di via Corradini 9701, una conferenza stampa per presentare il piano sulle politiche sanitarie nella Marsica della regione Abruzzo, a trazione Lega, con particolare riferimento al nuovo ospedale di Avezzano e dalle istituzioni del servizio di parto in dolore nell'osogomio del capoluogo della Marsica. Interverranno il candidato sindaco all'elezione di Avezzano del prossimo mese di settembre, Tiziano Genovesi, l'assessore regionale della sanità Nicoletta Averì e il consigliere regionale Simone Angelo Sante, che come noto è anche sindaco di Ovindoli. La prefettura dell'Aquila rende noto che nella gazzetta ufficiale numero 180 del 18 luglio è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica, con il quale è stato nuovamente indetto per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre il referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Con decreto del Ministro dell'Interno è stato fissato inoltre per gli stessi giorni lo svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative con eventuali turno di balottaggio per l'elezione di sindaci domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15. È stata approvata in Consiglio regionale la richiesta di riconoscere lo stato di emergenza per i disagi creati dalla chiusura ai TIR del viadotto del Cerrano della A14. La risoluzione con primo firmatario Pietro Quaresimale, capogruppo della Lega, ha incontrato in favore dell'intera Assemblea. Sono molto soddisfatto per l'approvazione unanime da parte del Consiglio regionale della risoluzione urgente sulle pesanti limitazioni al tratto della A14 con una deviazione quasi obbligatoria sulla strada statale 16 dei TIR superiori alle 3,5 tonnellate. Così il gruppo della Lega Pietro Quaresimale commenta la ormai nota vicenda del viadotto del Cerrano limitato al traffico dall'ordinanza del GIP di Avellino. Noi del gruppo Lega all'Unisoro con tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione chiediamo al Presidente Marsilio di farsi portavoce con il Governo nazionale del riconoscimento dello stato di emergenza dopo la constatazione degli enormi danni che stanno subendo i comuni interessati dalle limitazioni al traffico pesante. A riguardo le dichiarazioni degli esponenti della Lega, Emiliano Di Matteo e Vincenzo Dincecco. Ascoltiamoli. Esprimiamo come gruppo Lega grande soddisfazione per l'approvazione avvenuta poco fa in seconda commissione della nostra risoluzione che vede come prima firmataria il capogruppo Quaresimale e poi tutti quanti noi rispetto alle criticità di questo periodo che interessano il tratto autostradale della 14. È evidente che con questa risoluzione chiediamo ancora un maggior impegno al Governo regionale, in particolare al Presidente Marsilio, oltre a quello già profuso in queste settimane, per arrivare alla dichiarazione da parte del Governo nazionale di uno stato di emergenza e quindi la nomina di un commissario ad acta dotato di poteri e risorse straordinarie. Il problema è ancora più grave in questo periodo estivo in cui comunque, nonostante il Covid, molti turisti cominciano a popolare le nostre località balnearie, anche dell'entroterra, e subiscono appunto code inaccettabili nel raggiungere l'Abruzzo con ritardi di ore. Riteriamo questa situazione assolutamente insostenibile, inaccettabile da parte del Governo nazionale che dovrebbe farsi sentire con maggior forza, con maggior vigore e anche con maggior autorità da parte del concessionario per far sì che queste continue interruzioni che interessano il tratto autostradale possano essere gestite in altro modo e non arrecare quindi il disagio e le problematiche che stiamo subendo quotidianamente. Siamo molto felici per aver approvato in Commissione, nella seconda Commissione, una risoluzione a firma di tutto il gruppo Lega, come primo firmatario del capogruppo della Lega, per evidenziare tutto quello che sta accadendo in queste settimane sul tratto della 14, sul tratto soprattutto abruzzese, che vede enormi disagi per i cittadini, per tutti coloro che operano e quindi utilizzano l'autostrada per motivi di lavoro e per i turisti. Quindi abbiamo chiesto in questa risoluzione di impegnarsi al Presidente della Regione Abruzzo per attivarsi affinché si possa individuare un commissario straordinario per l'emergenza, secondo quello che stabilisce già la terminata legge, quindi l'articolo 25 sulla legge della protezione civile, e affinché questo problema che sta danneggiando gli abruzzesi e non solo, trovi presto una soluzione per ritornare alla normalità, soprattutto in questa fase, che noi ci auspichiamo sia anche una fase in cui l'Abruzzo sia in qualche modo luogo dove da fuori i turisti arrivino senza soffrire quelle che sono le lunghe ore di coda che stanno soffrendo in questo periodo. In Abruzzo è ancora obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto, laddove non sia possibile rispettare il distanziamento sociale. Lo ricorda il primario delle malattie infettive dell'ospedale di Pescara, Giustino Parruti, della Task Force regionale per l'emergenza coronavirus, invitando le istituzioni e le amministrazioni locali a rafforzare un minimo di vigilanza, anche solo per far capire che i controlli ci sono. Dopo giorni senza pazienti in rianimazione abbiamo di nuovo ricoveri in terapia intensiva. Questo, sottolinea l'infettivologo, dimostra che quando la circolazione del virus si allarga un pochino ci sono pazienti più gravi. La nostra esperienza è la riprova del fatto che chi ha fantasticato su una riduzione della potenza infettiva ha sbagliato. Purtroppo, l'attuale situazione mondiale e i nostri casi dimostrano che quando il virus circola trova ospiti più suscettibili. Il riferimento è in particolare alla situazione di Chieti. Dopo un negoziante risultato positivo, diversi suoi familiari hanno contratto il virus e tra questi le due persone finite in terapia intensiva. Proprio per questo, Parruti rilancia l'appello alla prudenza e alla prevenzione. Nuova udienza per la vicenda dell'uccisione di un orso bruno marsicano avvenuta nel settembre del 2014 a Pettorano sul Gizio. Ieri la Corte d'Appello ha accertato la responsabilità civile dell'imputato dannandolo a risarcire il Parco Nazionale d'Abruzzo e le associazioni che si erano costituite parti civili oltre che a pagare le spese processuali. In una nota del Parco Nazionale d'Abruzzo, tra l'altro, si legge che purtroppo, a causa di un vizio di forma, la condanna è solo civile e non penale. Ma possiamo comunque dire che è una sentenza storica perché finalmente rende giustizia alla tutela di una specie protetta, riformando in modo sostanziale la sentenza del Tribunale di Sulmona che nel 2018 aveva assolto l'imputato, destando sconcerto e preoccupazione per i possibili risvolti che una tale sentenza poteva avere su chi è poco incline a convivere con la fauna. Infatti c'era un evidente rischio di compiere la generalizzazione, secondo la quale uccidere un orso non è un reato con le gravissime conseguenze che si possono immaginare. Per fortuna così non è stato. Questa sentenza ha fissato un precedente che lascia ben sperare per un futuro giurisprudenziale più attento alla conservazione di specie protette come l'orso bruno marsicano, simbolo di natura selvaggia e grande valore per la nostra regione. È davvero una sentenza storica, afferma il Presidente del Parco Giovanni Cannata, perché riconosce la responsabilità di un cittadino che ha sparato ad un orso uccidendolo. Il riconoscimento delle responsabilità, oltre a fissare un principio ineccepibile come è il rispetto della vita di un orso, dà conto anche del lavoro investigativo svolto dal personale dell'ex Corpo Ferrostelli dello Stato che riuscì a ricostruire tutti i passaggi della vicenda ed individuare le responsabili che non ha mai negato di aver sparato all'orso. Si è tenuta oggi, nella Sala Celestino di Palazzo Silone all'Aquila, una conferenza stampa dell'assessore allo sport Guido Quintino Liris. È stata l'occasione per la presentazione della manifestazione sportiva Atricup. Oltre a Liris sono stati presenti il sindaco di Atri, Pier Giorgio Ferretti, l'assessore allo sport del Comune di Atri, Pier Francesco Macere ed il Presidente dell'Associazione Abruzzo Ontario, Antonio Di Musciano. La manifestazione, arrivata alla 34esima edizione, si svolgerà ad Atri da domani e fino a dicembre. Promuove una serie di eventi sportivi per atleti ipodotati e diversamente abili, sempre più prestigiosi a livello nazionale ed internazionale. A margine della presentazione, l'assessore Liris ha rilasciato una intervista. Ascoltiamolo. L'assessore regionale Guido Quintino Liris è stata di un'organizzazione di grande prestigio sociale e sportivo. 1.300 atleti provenienti da tutta Italia ma anche dall'estero. Quindi sport e disabilità. Cosa rappresenta tutto questo per la Regione Abruzzo? Ma rappresenta un'offerta di qualità e un'offerta turistica, culturale e sportiva che alza un po' l'asticella. Il brand di Arricap ormai sta assumendo valori sempre più importanti per una Regione che vuole riscoprirsi qualitativamente sempre più avanzata, sempre più accessibile e inclusiva. Questa è la Regione che sogno come amministratore e lo sport è il veicolo giusto per affrontare alcuni temi in maniera più semplice, in maniera più immediata, in maniera più lampante e per rendere poi questo tipo di sistema Abruzzo un sistema educato ed educativo nei confronti della popolazione, lo sport come simbolo positivo, come messaggio positivo, come emblema, come manifestazione, come epifania di come attraverso la pratica sportiva le persone meno fortunate possano fare delle proprie particularità fisiche una eccezionalità in ambito sportivo, con tenacia, sagacia, con un sorriso e un ottimismo fuori dal comune riescono a superare le criticità, le difficoltà e ad essere competitivi negli ambiti sportivi. Ecco, un'edizione rivisitata, quella di quest'anno, ai tempi del Covid-19. In che modo? Il problema di affrontare le manifestazioni con le misure di contenimento del rischio legate al coronavirus c'è, è stato affrontato dalle ordinanze del Presidente Marsilio, c'è perché quando si riallargano minimamente le maglie della società, quindi quando si torna a vivere e guai se non fosse così, certamente ci si espone maggiormente a un aumento del rischio del contagio. Proprio da questo punto di vista, il sistema di contenimento, i sistemi di contenimento dal distanziamento sociale all'uso della mascherina, alla disinfezione delle mani con i geli tra alcolici, sono caratteristiche essenziali. Però abbiamo scoperto come si possa convivere con queste difficoltà e vivere con queste difficoltà. Lo stiamo imparando giorno dopo giorno, lo stiamo consolidando in ambito sportivo, diventerà anche da questo punto di vista lo sport uno strumento per cristallizzare questo tipo di patrimonio che sarà educativo, culturale, perché per il momento c'è proprio un passaggio culturale che stiamo facendo tutti quanti insieme, di cambiamento anche un po' delle nostre vite e degli approcci che abbiamo nei confronti del nostro prossimo. Un prossimo che prima era più prossimo, oggi è meno prossimo proprio perché fa parte delle misure di contenimento. E Atricap, che è una manifestazione molto corposa, molto particolare, molto partecipata, sia a livello di atleti che di partecipazione di pubblico, non può fare eccezione. Ed è questa un po' la sfida che a 360 gradi tutti i giorni stiamo vivendo nei nostri vari ambiti della Regione Abruzzo che affrontiamo nel corso di quelle che sono certamente le nostre competenze, ma soprattutto nella nostra vita quotidiana. Ora il calcio prima di passare ad altre notizie di cronaca. Con il passare dei giorni ed in attesa di conoscere il proprio destino in ordine al campionato che dovrà disputare, la Presidenza dell'Alezzano Calcio, con il dinamico e passionale Presidente Gianni Paris, sta costruendo un organico interessante senza però farsi prendere dalla smane di acquistare giocatori ad ogni costo. In altre parole, si sta lavorando per non commettere errori e per individuare i giocatori da mettere a disposizione di Vista del Grosso in grado di fare la differenza. Dopo gli acquisti del difensore Emanuele Lombardo, ex già bianco verde, del portiere Francesco Cattenari, dell'attaccante Emanuele Spadafora e del centrocampista Umberto Sassarini, anche lui ex Avezzano, sono stati messi a segno altri due importanti colpi. Si tratta di Cristiano Verna e della punta Ilario Lepre. Verna, centrocampista classe 94 di Scuola Lanciano, è reddice dall'esperienza della stagione 2018-2019 con la maglia del Val di Sangro. In precedenza ha vestito le maglie di Miglianico e Vastese. Ilario Lepre, attaccante di esperienza, classe 1989, è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione del Castelnuovo Mano, vincitore dello scorso campionato di eccellenza con nove gol all'attivo in 24 presenti. A giorni verranno ufficializzati altri elementi per completare un organico di prim'ordine. E sono quasi terminati i lavori urgenti di risanamento del corpo stradale ammalorato sulla strada regionale 437 della Remogna, che conduce dal centro abitato di Roccaraso, in via Pedemontana, fino agli impianti di disalita della rinomata località sciistica. Interessato dai lavori in corso anche il tratto delle adecenze del cubo di Castelnuovo, che riguarda la strada provinciale 119 del Sangro, ec strada statale 17, che conduce nella frazione di Rocca 5 Miglia e Roccaraso. I lavori sono stati appaltati il 23 giugno scorso dall'impresa Celi Calciostruzzi, con sede a Massadalbe, per un riporto complessivo di 277.765 euro, oltre l'iva corrente. La soddisfazione è stata espressa dal presidente della provincia dell'Aquila Angelo Caruso, che promette ulteriori interventi sulla carrabile che conduce alla località a Remogna in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia, in programma il prossimo mese di ottobre, proprio ai piedi delle piste di sci della Remogna. La provincia sta programmando una serie di interventi su tutte le strade di propria competenza, prosegue il presidente Caruso, con cantieri aperti ed investimenti per milioni di euro. La strada regionale 437, che conduce agli impianti, andava sistemata, così come via Piedemontana, che attraverso il centro di Roccaraso, per consentire a utenti e turisti di fruire della rete stradale in sicurezza e tranquillità. Con la crisi pandemica, e ancora oggi incombe, la provincia vuole restituire alle comunità un segnale di vicinanza e profigo a collaborazione, partecipando effettivamente alla ripertenza e lo sviluppo di questi territori naturalmente vocati all'accoglienza turistica. Con questa notizia abbiamo terminato, vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena2 Avezzano, dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie a risentirci, alla prossima edizione. Grazie a tutti.